Eccoci ancora in diretta. Alfredo Luigi Conti, presidente del movimento Taranto Diritto di Volare, torna a denunciare lo stato di degrado in cui versano i quartieri San Vito, Lama e Talsano. Con amici venuti dalla Basilicata ci siamo inoltrati sulla strada tra San Vito e Lama, via Mormore, via Girasole, scrive in una nota stampa. Un susseguirsi di discariche a cielo aperto, marciapiedi invasi da sterpaglia, cumuli di rifiuti di ogni genere, protetti da edifici abbandonati. Lo stesso vergognoso spettacolo l'abbiamo incontrato sulla costa di via Girasole. Per finire, sul lato del Residence Pezzavilla c'è un enorme discarica, sempre a cielo aperto. Quel tratto di costa più volte è stato rilevato come sito di abbandono di rifiuti da parte di incivili, perché isolato. In via Mormore da anni non vengono puliti in marciapiedi, facendo rischiare i pedoni costretti ad andare a piedi sulla carreggiata. Conti propone di installare telecamere di videosorveglianza nei punti di massima criticità, per riprendere quanti non hanno nessuno scrupolo nel rendere della nostra costa meravigliosa una discarica.